Questa mappa mi sta sui maroni Non è proprio un racconto Allora io ho il russo Ma Io odio quando sono tipo a Mezzo millimetro al di fuori Del cerchio E non catturano Maledetti Allora Allora Ma perché i miei tizi sono idioti? Serve aiuto Perché da me non c'è nessuno No no C'era una squadra dell'americano al centro Non ho visto se ne è andato via Quando tra un po' ti arrivo addosso Ecco lui Da dietro Sì infatti Vabbè non è che è molto importante C'ho sia i granatieri che l'MG Beh non me l'aspettavo quella Bastardo Cosa sta succedendo Ha rinforzato gli ingegneri Nice Ah glielo ho ipati col mortaio Così Va bene Ah lui Si è fatto il mortaio No no l'ho fatto io L'ho fatto io No no intendo il tizio dalla mia parte Ah ok Ah ok Oh ok We have a new sniper under our command What the fuck? Cosa sta facendo il mio tipo? La risposta è niente però Ah il mio tipo è paracadutisti Cosa sta facendo il mio tipo? 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 Ah che intelligentone Cacca 120 si è fatto Ah ok ok Bene allora almeno sappiamo più o meno cosa si sta facendo Ma ho fatto la demo vicino alla casa Oh cazzo Stuart Non me l'aspettavo Non mi aspettavo lo Stuart così velocemente Maledizione No 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 Grazie. Ehm, più o meno. Vabbè, io l'entrattivo l'entrattivo. Beh, credo che riuscirà a sopravvivere. Porca madonna, che domaroni. Vabbè, io l'entrattivo. 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 Che palle questo Stuart. Vabbè. 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 Oh, falla fuori, falla fuori, falla fuori E' scappato No, porca madonna che due maroni Con due di vita è scappato Stavolta c'ero veramente vicino Ottimo No, sta catturando, dai Ulla bello Ok 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 Ok, io sto aspettando per il Panther Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, attenzione Ok, sto cercando di venire ad aiutarti Sai quanto mi empowerò? Non lo so e probabilmente non lo voglio neanche sapere Beh, io ho fatto la Relief Infantry quindi mi sta arrivando Zelos Truppen Beh, io sto arrivando niente, c'è il frutto non le perdo Bastardo ancora Oh cazzo Ok, ora mi sto facendo il Panther Dopo questo faccio il Panzerwerfer Allora il sovietico è della dottrina del... come cazzo si chiama? Shock Quella senza l'IS2 però Esatto, non ha niente C'ha l'artiglieria credo Perché ha anche il 120, le truppe rinforzate col... come cazzo si chiama... Ehm... col mitrino Si Occhio al Panther Si si lo vedo lo vedo Ah cazzo Bene Ho fatto fuori lo... lo Stuart Ah, così a cazzo Si è random Si vede che si è scordato che esisteva Ok, arrivo... gli arrivo da dietro con il Panther Aspetta, cosa? E ovviamente il Panther manca Ok, ora credo che il Panther mi muore da... dal bazooka Oh, ragazzo, ragazzo Figa, ma che... Figa, ma che... No, il su, cazzo Oh no, il su Rip Oh, gli arrivo da dietro con i granatieri Oh, gli arrivo da dietro con i granatieri Beh, ho perso il Panther, ma almeno la parte destra della mappa è tutta nostra Si si, infatti, siamo... la benzina è ancora neutrale Ah, vabbè, comunque la benzina destra è nostra, quindi non è che sia un disastro È meglio che sia nostra Ma meglio che non sia Vero Io mi sto chiedendo cosa sta cercando di fare l'americano Perché secondo me tra un po' inizia da spammare di Jackson lui Cioè, non vedo cos'altro vuole fare Cioè, con l'Airborn... Sì, non vedo cos'altro Un altro caso Un altro caso Un altro caso Grazie a tutti. Oh, ecco Jackson. Me l'immaginavo. We are losing a sector. We are losing a sector. We are losing a sector. Ah, stronzo, c'è il... Si è fatto i cosini che gli fanno al mapac. Stronzo. 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 Se tipo danneggi il motore di qualche veicolo Dimmelo che io ho le bombe a frammentazione Che quelle possono essere molto buone Grazie a tutti Ok la destra l'ho ripresa di nuovo Grazie a tutti Grazie a tutti Oh pera Oh pera Fumo da qualche parte Oh arrivo con la mia roba Per aiutare il Tiger Cosa succede al Tiger? Ah no? Cioè perché ci aveva il Jackson di fianco Ho bisogno di aiuto Ok l'ho distrutto in su E una... Come si chiama il coso che spara con l'artilleria? Il coso? Che spara con l'artilleria... E no mi ha fatto il motore dell'altro Ehm... Ho fatto fuori l'artilleria Mobile Nice Ehm... Katiuscia... Oh no... Katiuscia... Ehm... Ehm... Go to the Dove ho avanti i tuoi contro oggetto Arrivo! Che ho fatto fuori il Tiger in God Ah cazzo... Ci sto tirando delle bombe E ora sto avanzando con la fanteria E il panzer Arrivo anche io con il mio panzer Ce l'hai tipo della ricognizione Così posso vedere dove è scappato Oh no, un secondo Jackson Ok, ci tiro le bombe Non ti preoccupare Ah, cazzo, però mi sa che perdo il panzer Sì, adesso il panzer Vabbè Io me ne scapperei fossi in te Oh no, non ce la faccio più mai No, dai, veramente Cosa è successo? Ho tirato il cannone prima che potesse sparare Cazzo Oh no, non ce la faccio può fare Oh no, non ce la faccio è in te Oh no, non ce la faccio è in te Beh, almeno tutta la zona ce l'abbiamo Mi sa che vinciamo per PP a questo punto No, no, no Pia, man. Pia, man. Pia, man. Pia, man. Pia, man. Attacking. Pia, man. Pia, man. A panther has arrived from the fatherland. Pia, man. Pia, man. Retreat! The enemy has killed a machine gun crew. Oh cazzo Il blob di paracadutisti mi sta veramente facendo fuori Si 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 riesco Si Beh in realtà non riesco a tenerlo Perchè mi è arrivato Perchè mi è arrivato Perchè mi è arrivato Perchè mi è arrivato E il enemy ha distroito un anti-tank gun Vai Ah finalmente Questa Questa E gli sto sparando praticamente tutto quello che ho Ok, ho fatto fuori il Jackson Ah, il Su-76, almeno credo che sia, ah no è un anti-tank Sì sì lo so, è per mettersi più vicino così può sparare più precisamente Grazie a tutti Dio buono Panzer versolo qui quindi non mandare niente lì Oh cazzo Sto mandando tutto quello che ho Torno io dalla mia parte Ok Si riesce a riprendere il punto centrale? Si si lo sto facendo adesso Ok Arrivo per distruggere il T-34 È il tuo due anti-carri Oh cazzo Hanno troppa fanteria non riesco a farla fuori Cioè letteralmente non ce l'ho fatta Facciamo andare una squadra destra Ho fatto tre punti Mi puoi riparare questo? C'hai degli ingegneri? Ho fatto una squadra appena finisce tramando Ok Cerco di andare per l'altro punto Che prima stavo cercando di prenderlo ma c'hanno una squadra lì e quindi non sono riuscito Che palle il T-34 ok panzer verfero questo ma che cazzo sta facendo? non lo so e ce la sta pure facendo in quel modo così ok però il sovietico ha appena perso tutta la sua fanteria no porca madonna dio bono eeeh gli ingegneri li hai finiti? so mi stai rifacendo un'altra squadra ma di nuovo il taekern che palle ok tremmando una squadra con l'altra riparare ok il sovietico almeno ha perso letteralmente quasi tutto ok distruggiamo il sovietico io sto venendo con il resto della mia roba ok i suoi enticare mi stanno facendo distruggere e sto arrivando con il panzer werfer se più o meno so dove sono ok c'è uno sherman random qua sopra io sto ancora riparando i miei cadri ok ok oh cazzo eh si attento perchè full vita non è un problema perchè non ti riuscire il panzer si infatti cazzo ho perso i miei ingegneri di nuovo non posso riparare il mio panther si ma è una rottura di coglioni eh oh io c'ho 300 di carburante è proprio la mano d'opera che mi sta fottendo oh merda quanto danno che ha preso il brunger chi c'è lo che non c'è un po' di difí di fatto il suo non volerà è e mi sa che devo provare a fare un flank tipo di qua eh si perché hanno il sicuramente eeeh No Sto Panzerwerferando i... i cosi E che palle il Panzerwerfer non ha fatto niente Ho preso la mia, l'unica mina che non era nel numero di me E che palle quanti paracadutisti ha Eccolo... ah no, non è l'attice No, no, gli discerano qua due C'è un pack qui C'è un pack qui Cioè io ho 225 carburante 225 C'è un pack qui 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 Non devo avere così tanta roba Non capisco come è possibile Cioè c'hanno così tante cose E' incredibile Cioè c'è un pack qui 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 Oh la madonna Porca Eva Ok Panzerwerfer quasi ricaricato Oh cazzo c'è qualcosa che arriva qui Ok sto attaccando Va bene vengo conto Cazzo quanti anticarro Cazzo quanti anticarro Centro centro Ma cosa sta succedendo Io non so come fa ad avere la visione di tutta questa cosa perché io Eh sta arrivando Eh il Panzerwerfer non ha fatto un cavolo Cazzo non ho le munizioni per il Panzer Faust Prendiamo il punto No il sud Ce la fai? Sì 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 ce la faccio Centro centro Cazzo il Katyusha Ma che due maroni Cazzo c'ho il Panther con il motore danneggiato A nord c'hanno qualcosa? Non credo forse probabilmente non lo so Ok io sto andando per il centro Di nuovo Posso lanciare del fumo se No ma non penso Fumo al centro Please No il Panzerwerfer Ok grazie per il fumo Tocca a te Eh mi sa che devi far scorrere i Panzer per mandare via le unità Così dire schiacci e scappare via Continuo a mandare più Ah Madonna questi anticarro Non c'è niente che posso fare Ci sono troppe unità di fanteria Prova a schiacciare il centro Non posso schiacciarli I Panther non schiacciano più Non so come si fa più Posso provare ma probabilmente perderò il Panther Eh vedi non schiaccia più un cazzo Cioè non schiaccia letteralmente un cavolo Eh mi sta fianicheggiando con i paracadutisti Il sud Il sud Oh no i P-47 Ecco muore il Panther Colpa del P-47 Il mortaio Il fumo ha fatto danno al Jackson Che cazzo Gli ha fatto proprio danno No ma che palle ste granate Io credo che stiamo perdendo Abbiamo 10 punti a rimanere Nooo madonna cara Siamo soprattutto il tempo a 3 punti Boh io secondo me l'abbia dovuto spammare Panzer IV Cioè il Brumber Boh non lo so non faceva fuori gli anticaro Perché ne avevano troppi Il Panther era inutile Loro avevano i paracadutisti Quindi la mia fanteria era inutile Ma ci volevano un puttanaio di Dovevo fare più Panzerwerfer Cioè Non mi sarei dovuti fare di più Io ho fatto il Tiger Ma cazzo non serve Cioè arriva il Tiger Pum 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 Meta vita Pum 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 Eh infatti infatti Non Io avrei dovuto fare Meno Panther E più Panzerwerfer Se avessi avuto due Panzerwerfer in più avremmo vinto Secondo me Il Panther non mi piace più sinceramente Cioè proprio Ma perché è buono solo contro i carri Eh lo so ma Cioè adesso non Non mi piace più come carro Il mio Panzerwerfer ha fatto tipo 50 uccisioni alla fine ho visto Stato anche Brutto perché a un certo punto Il sovietico ha letteralmente perso tutto Però c'era l'americano Che c'aveva ancora un casino di roba E Ma onestamente se avessi giocato meglio Io all'inizio All'in mezzo Ti avessi aiutato di più Tipo A un certo punto Sarebbe stato molto meglio E' stato l'americano col Più che l'americano Anche il russo Ogni tanto si tirava fuori degli anticarre Ma preso due